Lui è così piccino e tu lo proteggi. Già nel bagnetto ti prendi cura della sua pelle delicata con Infasil e della tua pelle delicata ti prendi cura quando fai il bagno. Test clinici hanno dimostrato che Infasil è gentile anche sulla pelle irritata, delicato sulle parti delicate. Lo proteggi. Lascia di proteggere. Bagno igienico Infasil perché la pelle delicata ha sempre bisogno di protezione. Lo sapevi che le vitamine contenute nella tua pelle sono la base essenziale per mantenerla giovane ed elastica? Vitamol, la prima linea cosmetica al mondo a base di vitamine. Vitamol, sotto il costante controllo dell'Istituto Svizzero Vitamine di Basilea. Vitamol, vitamina la tua pelle con Vitamol. Tigre Quel buon sapore fondente e cremoso ecco il segreto di fondi creme. Tigre Gusto da fondere e da spalmare spicchi e fettine di fondi creme. Tigre rende fantastico ogni tuo piatto formaggio svizzero di qualità. Fondi creme. Ora la genuinità la trovi anche fondente e cremoso. Tigre signor Milo un chiosco. E sarà un miraggio. No, è un chiosco vero. Acqua, è proprio un bifidano. Acqua, acqua. Non è un miraggio, è proprio acqua. Scusa, ma che c'è pure il caffè? Caffè? Come si dice la fazza in arabo? Ah, la fazza. Ah, si dice uguale. E questo è un miraggio, adesso riapro gli occhi e non c'è più. Hai visto? Buono. È proprio qualità rossa la fazza. E se ne è bevuto lei? Mi sentivo così giù. Più mandi giù, più tira su. E certo, la fazza non è un miraggio.